Nel secondo tempo, quando sono riuscito a trovare questo gol un po' fortunoso, ci siamo un po' abbattuti, cosa che non avevamo mai fatto in queste prime nove partite. Il mio grande ramarico è questo, c'era tempo per andare a riprenderla, per ribaltarla e invece il non giocare, il provare ognuno di noi a risolvere la situazione non è da noi. Sapevamo che il brusapporto, l'avevo detto ai ragazzi, che era molto più complicato giocare contro di loro che la partita di domenica scorsa, perché si chiudevano bene, perché chiudevano gli spazi, perché non concedevano profondità. Dovevamo essere bravi di più nella circolazione di palla, nel cercare di stanarli. Logicamente poi loro andando in vantaggio è andato ancora meglio, si sono ancora chiusi di più, però anche col doppio vantaggio certe volte riuscivano bene a venirci a prendere, a ripartire bene. Siamo mancati un po' su tutti gli aspetti quest'oggi. Siamo stati deboli di testa, ripeto, il primo è un calcio di rigore, avevamo il pallone sotto controllo a metà campo e sono riusciti a ripartire, siamo arrivati tu per tu e abbiamo causato il rigore. Secondo, una respinta, un tiro, magari voleva trovarlo il 7, però per la parabola che ha preso il pallone diciamo che è stato abbastanza fortunoso e va bene, possono succedere degli episodi a sfavore, qualche occasione nel primo tempo per fare gol abbiamo avuto e invece nel secondo siamo stati solo confusionari. Auguri a tutti i ragazzi, a tutti i tifosi nero-bianchi e speriamo di ripartire col piglio giusto con l'anno nuovo.